Andiamo a vedere di che si tratta. È molto grande, vediamo un po'. Vi presento in anteprima la nuova pensilina di Roma Capitale. Si chiama Eterna ed è super tecnologica. È una pensilina smart, davvero bella, col suo design leggero e innovativo. È comodissima e qui c'è spazio per una carrozzina, per bambini o per persone con disabilità. La struttura è fatta di superfici trasparenti che consentono non solo di ripararsi da sole intemperie, ma anche di trasformare l'attesa da passiva ad attiva. Come? Adesso ve lo faccio vedere. Innanzitutto c'è la presa USB per ricaricare il cellulare, poi il cuore di tutto è questo touchscreen che consente di vedere gli autobus che stanno arrivando, quanto tempo manca, ma è interattivo, quindi si possono chiedere informazioni sulle linee e si possono attivare altre funzioni. Qui per esempio possiamo scoprire i punti di interesse vicini alla fermata, in italiano e in inglese. Questo è solo uno dei modelli, ci sono le singole, la singola vegetale e quelle doppie più grandi. Questa pensilina fa parte del grande piano fermate smart di Atac che interessa tutti i municipi di Roma e che conterà l'installazione di 435 nuove pensiline come questa e di 405 nuove paline digitali. In più ci sarà la riqualificazione di 1.400 pensiline esistenti e di tutte le 8.200 paline, tutte le pensiline, tutte le paline di Roma Capitale. Complessivamente sono 9.600 cantieri, ma non spaventatevi, questi per fortuna non sono invasivi e sono molto rapidi.